...di sensazioni di torno in Italia, è una buona Inter. Spero che faccia più fresco in Italia che in Cina. Gli Ortici è contento dell'arrivo di Ortici? Ma dov'è? Scusate. Mister, dai, un'Inter cresciuta, no? Un Inter che comunque mostra nuove soluzioni, è contento, almeno questo. Sì, c'è tempo, c'è tempo. C'è ancora un mese. Poi fra una settimana dovrebbe arrivare Perisic. Non l'ide mai, neanche la mattina. Grazie.